Un esordio vincente, un gran bel primo tempo, poi un calo nella ripresa. Il tuo commento in questa prima partita? Sì, abbiamo creato buone occasioni da gol, le abbiamo mancate, abbiamo fatto buoni sprazzi di gioco. Poi durante la gara ci sono stati sempre sprazzi con cali di intensità. Penso sia dovuto anche a un fatto fisico. Quando abbiamo accelerato abbiamo creato delle buone cose, specialmente sulla fascia sinistra con Pistola e Castagna il primo tempo. Abbiamo mancato l'ultima conclusione, l'ha avuta due volte Iattarelli, Soghiuzzo un paio di volte, Invernini il secondo tempo, Rubino, Castagna prima di quella che ha fatto gol. La cosa positiva è che loro non ci hanno mai impensierito. È comunque una squadra tosta questa del San Sebastiano, composta da giocatori esperti che hanno giocato in eccellenza per tanti anni. Mi diceva il loro allenatore che praticamente si sono riuniti da poco, non hanno fatto una preparazione adeguata. Però è una squadra tosta dove noi eravamo obbligati a vincere e abbiamo vinto facendo anche delle buone cose. Ma non siamo ancora quelli che voglio io. Ci vuole più intensità per tutti i 90 minuti. Possiamo dire che manca un po' di cattiveria sotto porta? Perché le occasioni vengono create, però anche uno come Iattarelli, già se guardiamo anche all'altra partita, sotto porta magari fa quel tiro troppo debole o magari non angolato. Ci vuole un po' più di precisione. Più di cattiveria io penso che sia lucidità, mancanza di lucidità, perché poi è capitata la stessa cosa ad Invernini il secondo tempo, non l'ha colpita bene, è capitata a Castagna, è capitata a Soghiuzzo. E quindi penso che sia più mancanza di lucidità perché è capitata a diversi di loro. Mister, un aspetto importante sono i tifosi. Sì, c'è stata già una grande risposta che ovviamente non può essere quella massimale perché siamo alla prima di campionato, tanti anche lavorano, però questa cornice di pubblico oggettivamente per la promozione è tanta roba. Spero che si ricrei un certo entusiasmo. Questo dipende principalmente da noi, però non incominciamo a fare voli vindarici. Noi siamo un'ottima squadra, come ce ne saranno altre. Ci saranno partite particolari, momenti particolari. Non sarà sempre facile vincere, ci saranno partite dove possiamo soffrire. In quel momento dobbiamo stare tutti uniti e cercare di avere quella continuità che ci porti fino alla fine per raggiungere gli obiettivi prefissati. Per sbilanciarsi un po' di più bisogna arrivare a dicembre? Ma non lo so, ci sono tante squadre che non conosciamo, altre che durante la strada penso che si raddrizzeranno. A dicembre ci sarà un'apertura del mercato. Adesso andiamo avanti così partita per partita, cerchiamo di avere continuità, cerchiamo di ottenere il massimo da ogni partita, ma ci saranno anche dei momenti negativi dove l'ambiente non si deve deprimere come non si deve esaltare nel momento in cui ci possono essere tre o quattro partite positive.